Buongiorno, sono Emanuela Volpe, faccio parte del direttivo di IACC Italia e mi occupo del coordinamento didattico insieme ai consigli abellari. Volevo parlare del workshop che si terrà il 12 di maggio ad uso dei soci IACC che volessero approfondire una parte legata alla strumentazione e ai materiali necessari per la realizzazione delle esercitazioni. Siccome il disciplinare prevede una serie di step tecnico-pratici che hanno bisogno di una certa abilità nell'uso di alcuni materiali, vogliamo dare la possibilità a tutti coloro che non abbiano una storia pregressa da artista o comunque da pittore che mi consenta di lavorare in sicurezza, questa opportunità la diamo quindi a tutti coloro che sono interessati alla frequenza dei corsi o che sono anche ex allievi che vogliono magari entrare un pochino più nello specifico della materia.